Il labrador Lila in forma è pronto per partire quando il suo padrone Alex Schulz gli dà il segnale. Fondatore di Devoted to the Ocean ha insegnato a Lila ad andare a pesca di crostacei e lei con il tempo ha imparato cosa dover afferrare e cosa no. Ora si lancia nelle splendide acque della Florida alla ricerca delle aragoste più gustose. Chissà se Sebastian del film Disney la sirenetta proverebbe.